ok ciao a tutti andiamo a spiegare il ballo allora si parte quattro volte con il primo una prima sequenza dunque partendo con la gamba destra vai 1 2 3 1 2 3 1 2 3 indietro con la testa 1 2 3 avanti con la sinistra 1 2 3 indietro con la destra 1 2 3 e si va a laterale 1 2 3 ancora 1 2 3 1 2 3 indietro 1 2 3 avanti 1 2 3 indietro 1 2 laterale 1 2 3 piano 1 2 3 1 2 3 indietro 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 indietro 1 2 3 avanti 1 2 3 indietro 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 indietro 1 2 3 avanti 1 2 3 indietro 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 bravi un applauso adesso con la musica la vendite poi un po' più avanti sennò non ci stiamo nel video un applauso adesso con la musica sullo! la musica 2 1 2 3 1 3 1 2 3 2 3 4 1 2 3 4 3 4 2 3 4 4 4 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 Grazie a tutti. 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 Ciao.